Non essendo Paolo Bonolis, non credo di riuscire a parlare di me in un minuto, ma ci provo. Allora, io mi chiamo Domenico Scavetto, ho 30 anni, sono rappresentato dalla cantera Management, vivo in provincia di Milano, ma ho appoggio a Roma. Mi sono formato attraverso delle masterclass da professione artista, ho incominciato a recitare a causa di una depressione che non riesco a maledire, perché mi ha portato ad affrontare la cosa più bella della mia vita, che è la recitazione, appunto, e il cinema in generale. Sono molto legato alla natura, sotto casa mia c'è un bel parco, vivo in una zona molto verde di Milano, quando scendo vado sempre attraverso questo parco, mi porto sempre un po' di pane da mangiare agli uccellini, sono proprio legatissimo alla natura e nessuno mai deve mettersi tra me e lei. È un rapporto che coltivo da sempre e che coltiverò per sempre. Canto e mi dicono anche che sono molto bravo. Ho praticato molti sport, ma i più degni di nota sono la box, il calcio e il nuoto. Non parlo ancora fluentemente inglese, ma lo sto studiando tantissimo. e quindi spero di metterlo tra le skills fra un po' di tempo. Spero di incontrarvi di persona e di approfondire magari qualche punto di questo video, perché è sempre interessante farlo. Vi mando un abbraccio e nulla.